Buongiorno, bentrovati al TG2000, vediamo i temi oggi in primo piano. Coronavirus shock per l'economia italiana, l'Istat prevede il crollo del PIL dell'8,3%, boom di inattivi, tonfo dei consumi delle famiglie. Al via da oggi l'app Immuni, sperimentazione per ora solo in quattro regioni, prosegue il callo dei contagi, ma a Roma cresce il focolaio scoppiato all'ospedale San Raffaele. Minneapolis smantella la polizia dopo l'uccisione dell'afroamericano Floyd, il Consiglio Comunale taglia i fondi alle forze dell'ordine. Oggi pomeriggio aperta la camera ardente. E in apertura dunque le drammatiche, stima Istat, che traccia oggi le prospettive per l'economia del paese. Quadro in caduta soprattutto per i consumi delle famiglie che si orano il meno 9%. Boom di inattivi, mentre gli indicatori delle prime riaperture di maggio mostrano soltanto timidi segnali di ripresa. Numeri e scenari con Pierluigi Vito. Calano drasticamente i consumi delle famiglie, il PIL andrà giù per tutto l'anno e così pure l'occupazione. È un bollettino di guerra, quello diffuso dall'Istat circa lo stato della nostra economia e le prospettive fino al 2021. Se segni di stagnazione erano già presenti a fine 2019, il dilagare l'epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal governo hanno determinato un impatto profondo sull'economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo e il funzionamento del mercato del lavoro. Nei primi quattro mesi di quest'anno si registra un boom degli inattivi, con circa 500.000 persone che hanno smesso di cercare lavoro, soprattutto le donne e quanti hanno tra i 35 e i 49 anni. Fino a fine anno si prevede una forte riduzione degli occupati di oltre 9 punti percentuali, con una ripresa di circa il 4% per il 2021. Numeri in linea con le stime del PIL, che ipotizzano per il 2020 una caduta dell'8,3%, parzialmente recuperata l'anno successivo con un più 4,6%. Un andamento condizionato prevalentemente alla contrazione dei consumi delle famiglie, meno 8,7%, e dal crollo degli investimenti, meno 12,5%, vagamente compensati da una crescita dell'1,6% della spesa delle amministrazioni pubbliche. Stesse oscillazioni anche per le esportazioni, che dovrebbero diminuire del 13,9% nel 2020 e poi aumentare del 7,9% nel 2021. Ma già gli indicatori disponibili per il mese di maggio, dice l'Istituto di Statistica, mostrano alcuni primi segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività. La speranza è che ritorni una bella stagione anche per la nostra economia. Il lockdown ha affondato anche la locomotiva europea Nuovo Tonfo per la produzione industriale tedesca ad aprile, il record negativo con un crollo del meno 17,9% rispetto al mese precedente. Si tratta dell'indicatore più basso della serie storica che riporta le lancette indietro al 1991, in particolare il collasso totale della produzione delle auto crollato, almeno 74%. Settimana rovente anche per l'avvertenza ex-ilva con gli operai degli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi sul piede di guerra. Secondo il piano industriale consegnato dalla nuova proprietà, Arselo Mittal dovrebbero uscire dalla produzione altri 3.200 dipendenti considerati in esubero. Prevista per domani un'intera giornata di protesta, in una giornata che si annuncia cruciale, il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha convocato sindacati e commissari ex-ilva per fare il punto sulla situazione. Vediamo allora l'andamento pandemia, diminuiscono i contagi in controtendenza il caso dell'ospedale San Raffaele di Roma, dove è esploso un nuovo focolaio in poche ore, 37 nuovi positivi e al via da oggi l'app Immuni. Ma sentiamo dove con Marco Bergamaschi. Un calo generalizzato dei contagi da coronavirus è quanto rilevano i dati contenuti nel bollettino di ieri della protezione civile. I nuovi positivi al virus sono 197 in diminuzione, 53 le vittime in calo ed è il dato più basso dal 2 marzo, si era portato alle ultime rilevazioni, 759 in più le persone invece guarite, mentre calano i pazienti ricoverati. Dei 197 nuovi contagi in tutta Italia, 125 sono in Lombardia, ma comunque in calo rispetto ai giorni precedenti. E per gli esperti non c'è nessun caso a Lombardia. In regione poi scendono il numero di vittime e di ricoveri. In sei regioni ieri si sono registrati zero contagi. Per il Ministero della Salute siamo usciti dalla fase acuta della pandemia, anche se l'emergenza non è finita. A Roma intanto sono 37 i positivi legati al focolaio di coronavirus. Ora, spiega l'assessorato alla sanità della capitale circoscritto, legato all'Istituto San Raffaele Pisana, da oggi al dia i test per tutti i pazienti dimessi e per i loro contatti stretti, sempre oggi diventa operativa. In quattro regioni pilota l'app Immuni per la tracciabilità dei contatti Covid positivi. Funzionerà a pieno regime su scala nazionale dal 15 giugno. È stata scaricata da due milioni di italiani, rende noto il commissario per l'emergenza Alcuri, che ha definito il tracciamento una componente essenziale per questa fase. Nel primo weekend di reali riaperture, protagoniste grandinate e forti piogge, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale. Chicchi di grandine, grossi come noci in Veneto. Nel Padovano in particolare hanno distrutto vaste coltivazioni di mais. E poi le ciliegie, ormai quasi pronte a essere raccolte. Milioni di euro di danni, la denuncia del monitoraggio Coldiretti. È solo l'ultima spallata, dice appunto la Coldiretti, del clima impazzito, che ha messo in ginocchio il mercato dell'ortofrutta. L'allerta meteo della protezione civile adesso si sposta verso il centro-sud. E fra i temi di giornata legati alla ripartenza anche il mondo del calcio, in questi minuti riunito il Consiglio di federazione ad animare il dibattito, la possibilità di disporre retrocessioni aritmetiche, soprattutto di negare lo scudetto. Federico Plotti. È un mezzogiorno di fuoco nella sede della FIGC, dove proprio in questi minuti è cominciato un Consiglio federale, che già alla vigilia si annunciava tesissimo, e che dovrà decidere in che modo procedere in caso di uno stop anticipato del campionato, che dovrebbe riprendere, salvo sorprese, il 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata. Da un lato c'è la federazione e il suo presidente Gravina, che sostiene da tempo, tramontata la possibilità dei play-off e dei play-out, la possibilità che possa essere un algoritmo matematico che terrà conto di una serie di parametri, tra cui la media punti delle squadre ottenuta in trasferta in casa, a decidere chi vincerà lo scudetto e quali squadre retrocederanno. Contraria la Lega, che boccia l'utilizzo della matematica Tukur, promuovendola nel caso solo per stabilire la qualificazione alle Coppe europee. Per i presidenti di Serie A, scudette e retrocessioni, possono essere decisi solo se l'aritmetica lo consentirà. In caso contrario, il titolo non deve essere assegnato, bloccata anche la discesa in Serie B. Ovviamente tutto avrà un riflesso sulle serie minori, a partire da quella cadetta. E quella dello stop del campionato non è nemmeno un'ipotesi così remota. Un solo calciatore positivo porterebbe tutta la sua squadra alla quarantena. Isolamento e niente partite per 15 giorni, e il calendario ne risentirebbe inesorabilmente. Intanto Napoli, Inter, Milan e Juventus si apprestano a scendere in campo prima delle altre, il 12 e il 13 giugno, per le semifinali di Coppa Italia. Poi il 17 a Roma ci sarà la finale. Ora le parole del capo dello Stato sul rapporto Stato-Regioni. Non vincerà da solo un territorio contro un altro, scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio rivolto in occasione dei 50 anni dalle prime elezioni regionali. Decisiva sarà, prosegue la dichiarazione scritta del Presidente Sergio Mattarella, la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari. La Repubblica nasce nel rifiuto del carattere autoritario e centralista dello Stato, spiega il capo dello Stato, che poi conclude la stessa lotta alla pandemia. Ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come evitare conflitti fra istituzioni perché la libertà dei territori sia un contributo all'unità nazionale. Adesso all'estero, negli Stati Uniti dove proseguono le proteste per la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia. Nel pomeriggio di oggi aperta la camera ardente, domani, funerale attesa per l'incontro fra il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e i familiari della vittima. Clara Eatosti. Una bara dorata entra nella chiesa battista Fountain of Praise di Houston, Texas. È in programma una cerimonia privata per pochi amici e familiari, l'ultimo saluto a George Floyd, l'uomo ucciso per asfissia da un agente a Minneapolis. Dal pulpito, dopo aver detto che i suoi figli non saranno il prossimo hashtag, dopo aver gridato basta alle violenze della polizia contro gli afroamericani, il pastore, reverendo Christopher, afferma di vedere il mondo cambiato. Vedo evangelici bianchi, prosegue, che di solito tacciono davanti al razzismo e iniziare a parlare di lotta al razzismo. Vedo muoversi la mano di Dio. Dopo due settimane di proteste in tutto il paese continuano i cortei e i sit-in. Il presidente Trump, che aveva chiesto 10.000 soldati al Pentagono per bloccare le manifestazioni, ora è costretto a ritirare anche la Guardia Nazionale schierata a Washington, mentre il corpo di polizia di Minneapolis, travolto dalle accuse di brutalità documentate anche da video, è stato smantellato. Anche per i repubblicani la misura è colma. Il capo della Casa Bianca tenta di rispondere alla fronda del suo partito e rinfaccia l'ex segretario di Stato Powell di aver portato il paese in guerra con la storia delle armi di distruzione di massa dell'Iraq. Ma dopo Powell, altri repubblicani eccellenti, come l'ex presidente George W. Bush, lo scaricano. Ora la crisi razziale, innescata dalla vicenda di Minneapolis, mette a rischio la corsa di Trump per il secondo mandato. Mondovirus, vediamo l'andamento della pandemia nel resto del pianeta, impennata di vittime che toccano quota 400.000 in testa, gli Stati Uniti con oltre 110.000 decessi. Il segnale positivo di oggi arriva però proprio da New York, che riapre i battenti, lasciando a partire da domani la fase 1 del blocco, cioè totale. Il Regno Unito, poi il secondo paese per numero di morti, mentre l'avanzata dei contagi continua anche in Asia, con il Pakistan che corre al ritmo di 5.000 contagiati al giorno. Ed è però l'America Latina il nuovo epicentro della pandemia, con oltre 1.200.000 contagiati. Esplode il caso Brasile, perché da ieri il governo di Bolsonaro ha smesso di pubblicare i dati complessivi dei casi e dei decessi provocati nel paese da inizio pandemia, limitandosi cioè a fornire solo i bilanci giornalieri. Oscurato il sito del Ministero della Salute, secondo gli oppositori del governo Bolsonaro, starebbe nascondendo così l'impatto reale della malattia sulla popolazione. Solo ieri nel paese c'erano stati 904 morti e 27.000 contagiati. Le mani della mafia, torniamo in Italia sui giochi e scommesse, ci riporta dunque nel nostro paese la vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato agli arresti di otto persone, notificando il divieto di dimora nel comune di Palermo ad altre due accusate a vario titolo di associazione mafiosa. Le fiamme gialle hanno svelato gli interessi dei clan nel settore delle slot machine e delle scommesse sportive, con un giro d'affari da 100 milioni di euro, sequestrate attività e beni per oltre 40 milioni di euro. Gli inquirenti hanno ricostruito la modalità con cui le cosche controllavano le imprese che avevano ottenuto le concessioni dei monopoli di Stato. E sui temi dell'illegalità registriamo l'allarme sulla fase che arriva da Confcommercio, secondo cui il 10% delle imprese a rischio usura. sugli imprenditori cresce, cioè la pressione degli strozzini. David Murgia. Coronavirus e crisi economica sulla fase 2 appena avviata incumbe lo spettro degli strozzini. Un imprenditore su 10 infatti è esposto a usura. L'allarme lo lancia la Confcommercio in un'indagine sull'infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese del commercio e della ristorazione durante e dopo il lockdown. La fotografia scattata sul mondo imprenditoriale dall'associazione preoccupante, carenza di liquidità e calo dei consumi sono i principali ostacoli all'attività di impresa durante l'emergenza sanitaria. Per questo è in crisi il 60% delle imprese del commercio e della ristorazione, mentre per il 30% delle imprese l'ostacolo è rappresentato da burocrazia, sanificazione, igienizzazione e altri protocolli di sicurezza. E appunto l'11% delle imprese indica nella criminalità un pericoloso ostacolo allo svolgimento della propria attività. In particolare, un imprenditore su 10 risulta esposto all'usura o a tentativi di approvazione anomala dell'azienda. Inoltre, più del 13% dei ristoratori e dei proprietari di bar dichiara di aver sentito personalmente notizie di pressioni usuraie su imprese del proprio settore e della propria zona. Circa il 60% degli imprenditori esprime preoccupazione per questi fenomeni, soprattutto in un momento di gravissima crisi economica come quella attuale. E di questi, quasi uno su cinque, si dice molto preoccupato. Per fortuna, continua sempre il rapporto, oltre il 60% delle imprese intervistate giudica comunque molto o abbastanza efficace l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura per contrastare questo fenomeno. Fondamentale ricorrere subito alla denuncia per il 60% delle aziende intervistate. Però, ancora oggi, quasi un'impresa su tre, di fronte a questi fenomeni criminali, non sa cosa fare. Ci salva per fortuna l'arte, perché nel primo weekend di riapertura delle gallerie degli uffizi è già record. Fra sabato e domenica sono stati più di 8.500 i visitatori, in gran parte tutti italiani, che hanno fatto ingresso nel polo museale fiorentino. Ieri, il picco più alto di presenze, dopo 85 giorni di chiusura, si è potuto tornare così ad ammirare il patrimonio artistico in piena sicurezza grazie a un numero massimo di visitatori, collocati poi sul pavimento indicatori di distanza, mascherina obbligatoria, sanificazioni frequenti per godere dell'arte. Gli italiani hanno risposto. E continuiamo a parlare di arte, in questo caso di musica. Lo vedete perché ha suscitato grande partecipazione l'iniziativa dell'Orchestra da Camera di Ginevra, un concerto gratuito per la riapertura al quale il pubblico ha potuto partecipare, lo vedete, ma senza pagare il biglietto. Lo spettacolo si chiama Ritorno a casa, ha segnato la riapertura delle sale da concerto in Svizzera, mentre il paese continua ad allentare le restrizioni. Moltissima la gente che si è messa ordinatamente in fila per ascoltare la musica che segna la ripartenza. E' proprio vero che la bellezza salverà il mondo. Allora vi lascio a terza pagina, il TG2000 torna alle 18.30. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie per l'attenzione.